Allora ragazzi, penso che ci sia ben poco da dire dopo una partita del genere, dopo un 3-0 fuori casa che ci porta a 10 partite consecutive senza vittoria. Io sapevo fin da subito che non sarebbe stato facile, sapevo fin da subito che Torrente non avrebbe potuto fare i miracoli da solo, visto che ha preso la squadra solo da pochi giorni, visto che ha preso in mano una squadra che con tutto rispetto dei giocatori presenti, sotto il punto di vista tecnico, è veramente mediocre. La squadra è quello che è, i giocatori hanno i loro limiti e si sono visti, soprattutto dal punto di vista difensivo, in cui abbiamo fatto una partita secondo me orrenda dal primo all'ultimo minuto, ed è una squadra che ancora deve capire bene i dettami del mister, e lo ripeto, mi pare abbastanza ovvio, visto che è appena arrivato. Non gli chiedevo i miracoli, non gli chiedevo chissà che, lui ha provato a fare quello che poteva con la squadra che aveva sotto mano, ma ovviamente i limiti ci sono e sono purtroppo evidenti. Premetto prima di tutto che non era facile portare punti dal campo di Suttirol, è una squadra difficile, una squadra complicata, una squadra che in casa in questo momento è veramente temibile. Non mi aspettavo certo di ottenere la vittoria, però un 3-0 fa sempre male, fa sempre male perché mi fa capire fin da subito che Torrente avrà veramente tantissimo lavoro da fare per cercare di sistemare questa squadra. Adesso si sta parlando nelle ultime ore di un possibile acquisto di Juanito Comez, che se non altro potrebbe galvanizzare la squadra e soprattutto i tifosi dal punto di vista dei ricordi, visto che tutti quanti sappiamo che è stato uno dei giocatori fondamentali per la promozione del gubbio dalla C2 alla Serie B, però ovviamente neanche lui può bastare. La squadra ha bisogno dell'ennesima rivoluzione che, da come ho capito, da come ho capito dalle parole di notari, verrà fatta nel mercato invernale, nel limite del possibile ovviamente. Ci sono tanti giocatori mediocri, tanti giocatori voluti da Guidi che hanno fallito e stanno fallendo insieme allo stesso Guidi che è stato per l'appunto esonerato, quindi la squadra in sé è veramente difficile da... è veramente difficile vedere giocare bene questa squadra, perché molti giocatori sono qua senza sapere effettivamente come hanno meritato la maglia rosso-blu. E lo ripeto con tutto rispetto, ma giudico in base allo spettacolo che mi vedo davanti. La squadra nella prima mezz'ora ha fatto pena, cioè ha lasciato praticamente il gioco totale ai padroni di casa. Poi ci siamo leggermente rialzati a fine primo tempo, ma poi nel secondo abbiamo preso la doppietta di Casiraghi, che mi potrete dire quel che vi pare, che era discontinuo e tutto. Però non è che ci ha segnato il testardi di turno, cioè comunque ci ha segnato un giocatore che volente o non volente negli ultimi cinque anni è stato uno dei migliori che avevamo in rosa, con la sua discontinuità, con le sue partite pessime e tutto quanto, ma aveva comunque capacità tecniche importanti secondo me. Quindi non è che dobbiamo russicare così tanto che ci ha fatto doppietta, perché comunque anche con la nostra maglia ha fatto vedere cose positive. A fasi alterne ma le ha fatte vedere, quindi non giudico certo la partita che ha fatto finora, anche perché considerando quelli che abbiamo preso, un Casiraghi con tutti i suoi difetti ci avrebbe fatto tranquillamente comodo. Niente ragazzi, allora, complimenti al suo Tirol che ha fatto la sua onesta partita, hanno dimostrato di essere più forti sul campo e lo erano già fuori, quindi veramente hanno confermato il pronostico. Adesso ci sarà una prossima partita mercoledì alle sei e mezza contro, non ricordo chi, ma comunque ci sarà subito modo di riscattarci. Purtroppo non potrei essere allo stadio perché è in un orario di merda, perché io lavoro in quel momento e quindi non posso fare altro, però spero con tutto il cuore che Torrente possa ottenere una vittoria alla sua prima partita in casa per smuovere questa classifica che in questo momento appare sempre di più tragica. Lo dico con un tono pacato, non voglio fare sfoghi o altro perché già mi sto sfogando in privato con il mio collega Marchese e non mi va di farlo anche sui video perché comunque se no veramente non finiamo più. Arrivati alla decima partita senza vittorie e se continuo ad incazzarmi vuol dire veramente che non ci capisco più niente perché alla certa non ne vale più la pena. Un saluto dal vostro Marchese Rosso Blu, vi saluto anche da parte di Elia che oggi non ha potuto vedere, non ha potuto fare il video ma comunque è sempre presente con il cuore. Un saluto e ci vediamo alla prossima.